Innanzitutto, come sempre, inizio con i messaggi chiave che abbiamo per questi pronostici invernali. Quattro sono i messaggi principui. Innanzitutto, eventi contrari alla crescita economica si sono intensificati dall'autunno e hanno un po' indebolito l'impulso, il rilancio nel breve termine. C'è stata una recrudescenza della pandemia, le misure di contenimento sono state rafforzate e quindi c'è un po' un indebellimento dell'economia, soprattutto nei servizi. Le limitazioni delle offerte continuano a intensificare, i prezzi energetici a salire e questo ha fatto sì che sia stata intaccata la produzione manufatturiera e hanno dato una bella spinta all'inflazione, quindi i consumatori hanno meno potere d'acquisto. I dati fondamentali restano solidi, ecco perché ci aspettiamo che l'economia dell'UE riprenderà vigore. Le infezioni, i casi di Covid passano e le condizioni dell'offerta si normalizzano, le pressioni inflazionistiche perderanno vigore e allora a quel punto la crescita ci sarà di nuovo. I mercati del lavoro miglioreranno, anche risparmi, ci saranno delle condizioni finanziarie migliori, ci sarà una mobilitazione del dispositivo di ripresa e resilienza e questo porterà a una fase di espansione. Tutti questi fattori ci fanno rivedere a ribasso le previsioni per quest'anno e di rivederle a rialzo per il 2023, quindi il PIL si prevede che aumenterà del 4% nel 2022 e del 2,8% nel 2023.